Salve, ben ritrovati a questa parte finale dell'analisi dell'allegato 4-1, poi andremo nell'allegato 4-2 e concludiamo con il documento che completa il ciclo di programmazione degli enti locali e delle regioni, che è il rendiconto della gestione. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono gli spunti che possiamo avere da questo paragrafo 13 dell'allegato 4-1. Il rendiconto della gestione, il ciclo del bilancio, ricordiamoci appunto che il sistema contabile si fonda sul principio di annualità e la ciclicità, si può richiamare il ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act, porta alla fine dell'esercizio a dover dar conto di come si è gestita l'attività nell'anno precedente. Mentre tutti gli strumenti visti finora riguardano le annualità successive, io nell'anno X approvo gli atti per X più 1, X più 2, X più 3, il triennio successivo, il rendiconto guarda al passato, quindi il rendiconto guarda all'esercizio che si è appena chiuso. Infatti il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria, anche qui ricordiamoci, il rendiconto della gestione è il termine riferito solo agli enti a contabilità finanziaria, perché negli enti a contabilità economico-patrimoniale si chiama bilancio d'esercizio. Gli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale, e il rendiconto è il primo strumento nel quale noi applichiamo in modo significativo la contabilità economico-patrimoniale, anzi è strutturato come un bilancio d'esercizio e quindi ha una forte componente di contabilità economico-patrimoniale, si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. Mentre i risultati finanziari li posso analizzare anche attraverso altri strumenti, quelli economico-patrimoniali sono tipici del rendiconto della gestione, conseguiti nel corso dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce a quello precedente. Il rendiconto è predisposto secondo lo schema dell'allegato 10, quindi armonizzazione contabile significa stessi modelli ed ecco qui l'allegato 10 al decreto 118 che contiene lo schema di rendiconto, identico per tutte le amministrazioni a contabilità finanziaria. Il rendiconto è predisposto secondo il modello ed è composto da queste cinque componenti, diciamo tre fondamentali che trovo anche nel bilancio d'esercizio, il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, quindi entrate e spese, si chiama conto del bilancio. Lettera D, il conto economico, costi e ricavi, lo stato patrimoniale, gestione dei beni. Queste sono le tre componenti caratteristiche di ciascun bilancio d'esercizio, quello civilistico, quello dei privati. Si aggiunge al rendiconto della gestione il quadro generale riassuntivo del conto del bilancio e la verifica degli equilibri. Notate, questi due strumenti si riferiscono al conto del bilancio, perché? Perché siamo in enti a contabilità finanziaria dove principalmente l'oggetto di interesse sono le entrate e le spese e quindi abbiamo due strumenti specifici per il conto del bilancio, mentre il conto economico e lo stato patrimoniale sono del tutto simili, se non identici, a quelli che troviamo nella contabilità civilistica. Al rendiconto sono allegati gli allegati dell'articolo 11,4 che abbiamo analizzato quando abbiamo commentato l'articolo 11. In più, per le regioni e le province autonome, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste con l'indicazione dei motivi, perché l'abbiamo detto, il fondo di riserva è una sorta di bilancio semplificato, cioè lo strumento attraverso il quale la giunta può destinare risorse in caso di emergenza e altara un po' il principio di programmazione, quindi è bene darne conto nel rendiconto, come mai si sono gestite queste risorse. Per gli enti locali, oltre agli allegati obbligatori, abbiamo anche l'elenco degli indirizzi internet dove si pubblicano tutti i dati relativi al bilancio, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, è una tabella si-no nella quale in presenza di un certo numero di parametri si deve avviare la procedura di deficitarietà strutturale, e il piano degli indicatori dei risultati di bilancio, anche questi li abbiamo già analizzati. Insieme al rendiconto si approva il rendiconto consolidato, ve l'ho già detto nelle scorse lezioni, attenzione, il bilancio consolidato non è un bilancio d'esercizio. Il bilancio consolidato è lo strumento attraverso il quale si rendiconta la gestione contabile del gruppo amministrazione pubblica. Insieme al rendiconto è approvato il rendiconto consolidato sui risultati della gestione facendo riferimento anche agli organismi strumentali dell'ente. In particolare negli enti locali comprende le istituzioni, nelle regioni anche il consiglio regionale. Perché? Perché nelle regioni la contabilità del consiglio regionale è separata da quella della giunta regionale. In pratica la regione è divisa in due, in virtù dell'autonomia costituzionalmente garantita riconosciuta alle regioni e riconosciuta all'organo consigliare, che ha ovviamente una funzione importante delle regioni e quindi ha una sua autonomia finanziaria e quindi ha un suo rendiconto separato. Il legislatore nel paragrafo 13 va poi nel dettaglio delle cinque componenti del rendiconto partendo dal conto di bilancio. Ricordiamoci, conto di bilancio, gestione finanziaria. Il conto del bilancio è costituito da cinque prospetti, due riferite alla gestione finanziaria delle entrate e della spesa e tre riepiloghi. Quindi leggiamo i cinque prospetti e abbiamo 1. La gestione delle entrate, 3. La gestione delle spese. Entrate, spese. Dopodiché dei riepiloghi, cioè non sono dati aggiuntivi, quindi i dati li trovo nel punto 1 e nel punto 3. Dopodiché nel punto 2 trovo il riepilogo generale delle entrate, quindi il riassunto del punto 1. Nel punto 4 il rendiconto generale delle spese divise per missioni e delle spese divise per titoli, in modo tale da avere un quadro di riferimento. Quindi servono affini esplicativi. Ricordiamoci, i documenti contabili non hanno soltanto una funzione contabile, ma hanno una funzione illustrativa, di spiegazione, di comunicazione. Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, utile anche per le finalità della finanza pubblica, perché queste informazioni poi finiscono nella banca dati unitaria. La classificazione omogenea per finalità della spesa attraverso l'emissione e i programmi, che abbiamo visto è l'articolazione che garantisce omogeneità, l'armonizzazione è data in primo luogo dal fatto che si raggruppano le spese e anche le entrate in gruppi omogenei, è stata individuata nel rispetto della Costituzione, prendendo come riferimento il bilancio dello Stato. Quindi noi abbiamo una contabilità degli enti locali, delle regioni, fondata sulla legge di bilancio dello Stato, in particolare lato spesa, sull'organizzazione in missioni e programmi previsti nella legge di bilancio dello Stato, la legge 196. Le entrate ugualmente titoli e tipologie, che è l'articolazione principale, le unità di voto, ricordiamoci la formula TTKKA, l'unità di voto è TT, titoli e tipologie. Ciascuna missione, torniamo all'autospesa, dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso l'articolazione in programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività. Quindi missioni, i grandi obiettivi, programmi aggregati omogenei per perseguire le finalità delle missioni, che sono le finalità istituzionali. Il nome del programma definisce l'area di intervento e deve essere parlante. Questo per quanto riguarda la prima parte. Poi abbiamo ovviamente il dettaglio. Io non sto a leggervi tutti i passaggi, anche perché lo schema, questo non è altro che la descrizione a parole di quello che io trovo poi nello schema. Quindi nel conto del bilancio io troverò, e poi lo vedremo, varie componenti, le abbiamo già viste, con i relativi acronomi, quindi residui attivi, previsioni di competenza.